Parliamo di economia. Conduce il professor Antonio Maria Rinaldi. Buongiorno, buongiorno ai miei carissimissimi radioascoltatori. Allora, oggi avremo una puntata molto particolare, estremamente interessante secondo me. Vi dico subito che parleremo con il responsabile di una società di consulenza elettorale. Sì, avete capito bene. È un professionista e fra l'altro è fra i più quotati in Italia, perché insieme ad altri soci per l'appunto gestisce una società di consulenza elettorale. È un tema di estrema attualità, proprio perché gli appuntamenti elettorali sono prossimi e ci faremo dire un pochino che cosa sta succedendo, come funziona, chi si rivolge in genere alla loro consulenza. Anche perché sappiamo tutti quanti che ultimamente gli uomini politici si avvalgono dell'esperienza di professionisti per migliorare la loro immagine. E sappiamo anche molto bene che negli Stati Uniti questa pratica è vecchissima, praticamente credo che sia nata negli Stati Uniti. Vediamo in Italia che cosa si fa e che cosa non si fa. Anzi, dovremmo avere in questo momento in linea il dottor Gaetano Grasso. C'è, dottore? Sì, buongiorno. Ah, buongiorno, dottor Grasso. Senta, io stavo appunto cercando di spiegare, e adesso lei lo farà chiaramente molto meglio di me, il tipo di attività che lei svolge con la società che lei dirige. Perché sono rimasto particolarmente interessato su questo aspetto, perché noi sappiamo tutti quanti che negli altri paesi, in genere ho fatto riferimento agli Stati Uniti, è una pratica che si perde nei tempi. Credo che forse anche George Washington, a suo tempo, avrà fatto ricorso a queste società di consulenza per migliorare l'immagine. Qui in Italia invece siamo partiti un pochino dopo. Però voi già avete un'esperienza più che decennale nel settore, vero? Sì, noi siamo uno studio associato di consulenza politica che è nato nel 2009, ma che in realtà mette insieme professionalità che sono iniziate appunto già dal 2001 con le politiche che si tenero in quell'anno, per cui diciamo nell'insieme, pur essendo tutti molto giovani tra i 30 e i 37 anni, diciamo con dei collaboratori ancora più giovani, abbiamo appunto un'esperienza che mette insieme circa un centinaio di campagne elettorali. Accidenti, infatti io stavo vedendo fra l'altro che voi addirittura prestate la vostra, chiamiamola esperienza, insegnando anche addirittura comunicazione politica addirittura in molte università italiane. Addirittura vedo qui Bologna, Firenze, Milano, Perugia, Roma, Siena. Quindi addirittura avete aperto un nuovo campo di intervento professionale veramente interessante. Sì, diciamo che con il crescere dell'attenzione su queste tematiche si sono aperti anche degli spazi per portare nell'ambito formativo un approccio che non fosse soltanto accademico, ma che mettesse anche a disposizione degli studenti l'esperienza maturata sul campo. Il nostro punto di forza da questo punto di vista è proprio l'aver portato degli elementi tecnici, operativi e di esperienza su come si fa comunicazione politica veramente sul campo e non soltanto sui libri. Allora, io qui leggo fra le vostre note che voi addirittura avete collaborato con tre partiti politici a livello nazionale, non facciamo i nomi chiaramente per ragione di praga, sia ovvio, è evidente, nei nomi assolutamente. Addirittura un leader politico internazionale, due presidenti di regione e due presidenti di provincia, oltre poi credo una miriade di amministratori locali. Giusto? Quindi avete una bellissima esperienza. Devo dire, per l'onore del vero, per far capire bene ai nostri radioascoltatori, che ho avuto un lunghissimo colloquio questa mattina, appunto, con il dottor Grasso, che mi ha veramente illuminato, perché a dire tale l'argomento mi interessava moltissimo, sapere se dietro ai candidati, diciamo, alle varie tipologie di elezioni, ci fosse dietro una specie di regia, perché tante volte noi ci rendiamo conto che effettivamente c'è dietro una mano che segue un pochino tutto quanto, ma andiamo per gradi, vediamo un po' che cosa succede, ci spieghi proprio nella tecnica semplicissima che cosa succede, ad esempio c'è un signore che desidera candidarsi, facciamo conto che è un soggetto nuovo, cioè che non si è mai presentato a nessun tipo di elezioni di nessunissimo genere. Voi cosa fate? Fate una riunione? Tarate? Cosa fate? Mi dica lei. Allora, diciamo, dopo il primo contatto, tendenzialmente, che può avvenire per via telefonica, per passaparola o per dei contatti in comune, il primo passo è raccogliere informazioni sul potenziale cliente, quindi per sapere cosa ha fatto, se ha già avuto delle... Ah, va precisato, va precisato che qualsiasi partito, qualsiasi orientamento, assolutamente, voi siete dei professionisti che mettete... Siamo dei professionisti che stanno sul mercato, non facciamo riferimento a nessuno schieramento né a nessun partito politico, mettiamo a disposizione la nostra professionalità per chi ne ha bisogno. In tutta Italia, quindi dalla Val d'Aosta fino alla Sicilia, voi prestate la vostra consulenza. Abbiamo sede a Roma, ma operiamo su tutta Italia, senza limiti. Quindi facciamo l'esempio, appunto, come dicevamo prima, di un potenziale candidato che si presenta alle prossime elezioni politiche. Viene da voi, cerchiamo di pianificare una strategia. Il primo punto è quello di conoscere il nostro interlocutore, quindi raccogliere quante più informazioni possibili su di lui, su cosa ha fatto, se ha già avuto impegni politici o comunque pubblici, volontariato, attività sociale, eccetera. Dopodiché già il primo incontro per noi è un momento di conoscenza, perché la differenza tra noi e molti altri che cercano di vendersi come consulente politico è che il nostro non è un lavoro meramente creativo. Il nostro lavoro non è creare lo slogan o creare il manifesto, ma sviluppare un vero e proprio percorso di consulenza che parte da una prima analisi approfondita, quindi dal nostro interlocutore. Per cui, ritorno al punto di partenza, già il primo incontro, noi di solito facciamo una videointervista, per esempio, per conoscere tutta una serie di motivazioni che l'hanno portato ad impegnarsi, quali sono i suoi punti di forza e di debolezza percepiti. E la videointervista ci serve anche a capire le sue capacità, per esempio, di gestire un'intervista davanti ad una telecamera. È molto importante. Esatto, un'interlocuzione con un potenziale lettore, un potenziale grande lettore. Io da profano del settore, perché sono un docente di economia, quindi non ho nessun tipo di esperienza. Mi ha sempre affascinato il fatto che ci sia dietro una specie di consulenti, perché lo vediamo in genere negli Stati Uniti, quando c'è le elezioni presidenziali, c'è proprio un apparato enorme che segue il Presidente, anche nei minimissimi particolari. No, io le volevo dire questo. Visto i tempi estremamente limitati di queste elezioni politiche, perché dovrebbero svolgersi ormai quando il 24 e 25 febbraio, quindi abbiamo veramente pochi giorni, pochissimi giorni. Sono due mesi, poco meno di due mesi. Diciamo un mese e mezzo praticamente. Cosa succede? Succede che secondo me, le ripeto però mi correga se sbaglio, queste elezioni saranno delle elezioni molto diverse rispetto alle precedenti. Cioè il tempo è così limitato e credo che un grossissimo ruolo lo svolgerà sia la rete, e l'abbiamo visto ultimamente, che i mezzi di informazione. Non ci saranno grossi spazi per altri tipi di incontri, per far conoscere il programma politico del potenziale candidato. Anche se vede, in realtà la considerazione che va fatta su queste elezioni politiche non può prescindere dal tipo di legge elettorale, perché la legge attuale, il cosiddetto Porcellum, non prevedendo la preferenza per il singolo candidato, in realtà rende quasi, nella percezione di molti, superfluo a fare campagna elettorale individualmente, per cui la comunicazione sarà centrata dai partiti che faranno delle campagne nazionali probabilmente unificate su tutto il territorio. Sì, però è anche vero, è anche vero che specialmente in alcune aree italiane esiste ancora un rapporto diretto candidato territorio. Sì, questo è vero, anche se questa legge, questo per esempio è uno dei limiti di questa legge, che già nella scorsa tornata è in realtà con i cosiddetti catapultati da una parte del territorio in un altro collegio non di riferimento, questo legame è un po' venuto o meno, però senza dubbio ci sono delle realtà dove ancora questo legame è forte. Ciò non toglie che alcuni candidati possano decidere autonomamente di fare attività di comunicazione. Naturalmente, laddove esiste un radicamento forte sul territorio, anche l'aspetto relazionale è un aspetto che comunque rimane fondamentale, perché il web rispetto a pochi anni fa è sicuramente diventato uno strumento importante. Magari per i giovani, perché magari le fasce con qualche età sulle spalle non hanno molta dimentichezza ancora con la rete. Diciamo che la soluzione di un unico strumento di comunicazione in grado di essere determinante non esiste, ancora oggi è necessario utilizzare un mix di strumenti. Grillo, che fa del web il proprio mantra, in realtà in Sicilia ha fatto dei comizi in moltissimi comuni, quindi è andato lì fisicamente, ha raccolto centinaia e non migliaia di persone nelle piazze. Senta, mi incuriosisce una cosa, lei mi ha detto nel lungo colloquio che abbiamo avuto questa mattina, perché le ripeto, ero veramente interessato di questo tipo di attività, che addirittura siete andati, lei e gli altri suoi soci, negli Stati Uniti per seguire proprio direttamente dal vivo la campagna elettorale di Obama, per carpire qualche segreto, qualche tecnica innovativa. Sì, in realtà studiavamo già fin da quando ci siamo affacciati su questo universo della comunicazione politica, abbiamo sempre guardato con particolare interesse a tutte le innovazioni che provenivano dalla comunicazione politica americana e nel 2008 decidemmo di fare questo viaggio per seguire per circa due mesi la parte delle primarie democratiche, durante le quali oltre ad assistere in alcuni casi anche a conoscere personalmente vari candidati, abbiamo intervistato volontari, esperti, consulenti politici, tra cui poi abbiamo realizzato un documentario dove appunto viene scandagliato e analizzato nel dettaglio quelle che sono le figure professionali ma anche le tecniche che poi hanno portato al successo di Obama, nonché alla sua reelezione. Perfetto, senta, mi vedo dalla regia alcuni segni, per un istante lascio la linea e poi ci riprendiamo immediatamente perché mi interessa veramente in maniera incredibile come è mai il discorso. Grazie dottor Grazia, tra pochissimi istanti.